Il pilota meglio viazzato fra te per Farmer e Franz Kahn farà le valigie. Cerca di non essere lui. Wow, che sorpasso! Alessia è dietro di te, fai in modo che ci rimanga. Il pilota meglio viazzato. Il pilota che ti precede, guadagnerai la prima posizione. Il pilota meglio viazzato. Ancora un giro, puoi vincere. Il pilota meglio viazzato. 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 Il pilota meglio viazzato.